Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo del kit ferrata del marchio Singier Rock. Nel particolare ho qua casco, dissipatore, imbrago e guantini. Adesso ne vediamo pregi e difetti di ognuno di loro. Iniziamo dall'imbrago, modello Singier Rock Versa 2. Questo imbrago è disponibile in due taglie, XSMLXL. Io per la mia grandezza ho preso LXL, pesa 410 grammi o 425 in base alla taglia. Ha 4 anelli di porta materiale con una capacità di 5 kg l'uno. Ha un anello di servizio sulla parte anteriore che resiste fino a una forza di 15 kg newton. Ora che ne abbiamo viste le caratteristiche, iniziamo a vederne pregi e difetti. Il primo aspetto su cui mi voglio soffermare, che è anche quello che mi è piaciuto di più, sono le regolazioni. Abbiamo, come vi dicevo, tre regolazioni principali per andare a regolare l'imbrago. Una posta nella parte anteriore sulla cintura superiore, per regolare completamente l'imbrago. E poi due singole regolazioni messe sui due cosciali. Sinceramente a me sono piaciute veramente tanto, sono veloci, si può regolare molto bene l'imbrago. Soprattutto quella poi sul fascione principale c'è una singola regolazione per poter andare a tirare, quindi volendo è anche semplice metterselo a posto mentre magari si sta facendo una via. In generale davvero questo tipo di regolazione ha fatto sì che io riuscissi a calzare molto molto bene questo imbrago, senza avere punti di pressione, anche restando appeso su una corda davvero, sono stato molto comodo, quindi regolazioni promosse. Ma in generale poi mi è piaciuta anche tutta la parte del fascione, non solo perché è abbastanza largo, ma nella parte interna è presente anche tutta una rete in mesh, che va a traspirare ed evita di farci sudare. Io ho fatto una via ferrata un giorno che faceva veramente caldo, dove il sole picchiava parecchio, eppure sono arrivato in cima alla via ferrata che ho sudato veramente poco sull'imbrago. Quindi davvero un imbrago anche molto traspirante. Come vi dicevo poi abbiamo quattro anelli porta materiale con una capacità di 5 kg l'uno. Ci possono stare, nel senso pensando di utilizzare l'imbrago per una via ferrata, vanno più che bene, magari la limitazione è un pochino più verso l'arrampicata, perché comunque gli anelli sono un po' piccolini, ecco. Diciamo che fossero usati un pochino più grandi e sarebbe andato meglio. Però ho pensato per la via ferrata, o comunque per dell'arrampicata su vie non troppo lunghe, possono andare bene. Ma l'aspetto che più mi è piaciuto di questo Versa 2 sono la cura dei dettagli che ci ha messo Singer Rock, perché per ogni singola fettuccia, per ogni singola fibia, abbiamo la possibilità di andare a richiuderla, abbiamo possibilità con vari elastici che ci sono in giro per l'imbrago e di poter fissarle, per evitare veramente che abbiamo delle fettucce che sballonzolano in giro, che possono darci fastidio, quindi un imbrago comunque molto ben studiato dal marchio. Passiamo ora al set ferrata, al dissipatore. Questo è un modello Singer Rock Vario 360 New, perché è la nuova versione. È un dissipatore che pesa solamente 485 grammi. È garantito per un peso dai 40 ai 120 kg, come le nuove norme vogliono. Troviamo poi nella parte centrale un sistema per il quale ci evita di andare a incrociare le longe. Una volta attaccato, set ferrata all'imbrago, questo sarà lungo 75 cm, con la possibilità di allungare le longe fino a 115 cm. Adesso come abbiamo visto le caratteristiche, vediamo anche di lui i pregi e difetti. Ci sono principalmente tre cose che mi sono piaciute davvero tanto di questo set ferrata. Innanzitutto il dissipatore. Davvero piccolino, vi assicuro, ho utilizzato io dissipatori un pochino più grandi fino all'altro giorno, e avere un dissipatore di questo tipo, molto piccolo, che comunque tiene dai 40 ai 120 kg, fa la differenza, perché quando camminate non l'avete in mezzo che vi rompe, è molto più semplice anche da attaccare, poi in generale, essendo più piccolo, il peso del set è abbastanza ridotto, quindi veramente un dissipatore che mi è piaciuto, anche perché all'interno, poi aprendolo, c'è un indicatore, una fettuccia che ci fa capire se il set è scattato, quindi dovremmo sostituirlo, oppure è ancora valido. Secondo aspetto che mi è piaciuto di questo set ferrata, è uno snodo centrale, davvero con questo tipo di snodo, a me le longe non si sono mai, mai incrociate, ho provato io a incrociarli di proposito, per vedere un po' come funzionava, ma torna subito indietro, quindi veramente uno snodo non indifferente, soprattutto sulle vie lunghe, magari un po' complicate, lì davvero può fare la differenza. E il terzo aspetto che più mi è piaciuto sono i moschettoni che va a utilizzare. Moschettoni con la sicurezza naturalmente nella parte posteriore, mi sono piaciuti, mi sono piaciuti tanto perché hanno una bella sezione ampia, davvero molto ampia, sul cavo in acciaio andate senza nessun problema, andate senza nessun problema anche sulle catene, e soprattutto poi sono molto leggeri. Utilizzarli nel momento in cui dobbiamo passare da un pezzo della ferrata all'altro, davvero sono molto leggeri e non si fa fatica. Quindi mi sono piaciuti, mi sono piaciuti tanto, soprattutto questa parte superiore, questi moschettoni fatti veramente molto bene. Abbiamo poi la parte pensata per andare a fare il nodo sull'imbrago, che è comunque abbastanza grossa, non si fa fatica a far passare anche dei moschettoni così larghi, quindi è stato pensato molto bene. Aspetto poi sempre gradito, nella parte centrale tra le due longe troviamo un piccolo anello dove potete andare a collegare un rinvio o un cordino da poi utilizzare per fare una sosta durante la via ferrata. Quindi davvero, praticamente questo asset ferrata non gli manca nulla, anzi, ha tanti aspetti anche superiori alla media. Arriviamo ora al casco, modello Singirock X. Io in questo caso ce l'ho rosso, ma ci sono davvero tanti colori disponibili. È disponibile in due taglie M e O L in base alla grandezza della vostra testa, pesa 300 o 330 grammi in base alla taglia, è presente nella parte posteriore una rotellina per andare a regolarlo e per quanto riguarda la clip utilizza il sistema Easy Clip per poi andare a collegare le due parti e fissare il casco. Adesso che abbiamo visto le caratteristiche anche di lui, vediamo un po' come si comporta. La parte che più mi è piaciuta di questo X è sicuramente la sua traspirabilità. Come potete vedere, ha davvero tantissime prese d'aria, soprattutto nella parte posteriore e vi assicuro, l'ho utilizzato in delle giornate tanto calde, non ho sudato per nulla, quindi veramente promosso. È un casco poi polivalente, lo possiamo usare dalla via ferrata, all'alpinismo, lo possiamo usare anche per l'arrampicata, quindi in generale, diciamo che comprato questo casco potreste usarlo per tutto. Io mi ci sono trovato molto bene, ho avuto modo anche di verificare la sua tenuta perché mi è caduto un sasso in testa e infatti nella parte frontale c'ho un bello sbecco, però comunque il casco lo posso ancora utilizzare, giusto una piccola ammaccatura e ha tutito molto l'impatto, quindi ha lavorato veramente bene. Mi piace poi nella parte posteriore che abbiamo la rotella per andare a regolare la grandezza del nostro casco in base alla testa e sempre nella parte posteriore è presente anche un elastico da utilizzare per andare a inserire nella parte superiore o una torcia oppure una maschera da scena. Nella parte interna invece troviamo tutta una gomma morbida, naturalmente per garantirci comfort. Mi piace che questa sia un unico pezzo, nel senso non sono tanti piccoli pezzettini che potremmo andare a perdere, ma è un unico pezzo grosso, facilmente rimovibile grazie al velcro e lavabile volendo. In generale comunque anche la parte interna dopo tante tante ore che l'ho avuto sulla testa a me non ha dato problemi, quindi ho trovato questo casco veramente molto confortevole. Arriviamo infine a parlare dei guanti modello Falconer, io in questo caso ho la versione a tre quarti, ma è disponibile anche la versione full, quindi con tutte le dita coperte, oppure la versione tactical che ha due dita scoperte e tre coperte. Sono disponibili quattro taglie, 8, 9, 10, 11, io se non ricordo male ho preso una taglia 10, per quanto riguarda i materiali sono fatti con un nylon traspirante nella parte posteriore e con una pelle artificiale rinforzata nella parte anteriore, e adesso che abbiamo visto le caratteristiche anche dei guantini, vediamo un attimo come lavorano. Personalmente io ho apprezzato molto questi guanti, una volta indossati non si sentono che li si ha addosso davvero, hanno un'ottima pelle che dopo tante vie ferrate, io comunque l'ho provati in una dozzina di vie ferrate, vi assicuro che sono ancora in ottimo stato, quindi molto bene. Il nylon nella parte posteriore gli fa traspirare abbastanza, diciamo che io l'ho trovato in un pelo caldini, però questo va molto anche a sensazione personale, però in generale comunque mi sono piaciuti. Mi piace molto il velcro per poterlo andare ad aprire, vi assicuro io quando ho messo su questi guanti davvero mi sono dimenticato di averli, quindi fatti molto bene. Poi nella parte finale dove ci sono le dita ci sono le varie fettucce che si possono utilizzare sia per facilitare la possibilità di togliere il guanto, sia nel caso per anche attaccare l'imbrago con un moschettone. Arriviamo dunque alle conclusioni per questo kit ferrata single rock. Iniziamo dai prezzi. Per quanto riguarda l'imbrago siamo sui 60 euro, 125 il set ferrata, 65 il casco e 18 euro i guanti. In totale quindi prendendo tutto il kit ferrata single rock si andrebbero a spendere più o meno 280 euro. Iniziando dai guantini che vabbè 18 euro per i guantini ci stanno alla fine è sulla fascia di mercato come tanti altri quindi i guantini non da dire sono buoni. Il casco spendere 65 euro per un casco secondo me ci sta soprattutto prendiamo un casco polivalente quindi non avremo bisogno di prendere un casco per l'arrampicata un casco per l'alpinismo eccetera. Secondo me ci stanno 65 euro per questo casco soprattutto per tutta la parte posteriore della ventilazione quindi io li spenderei tranquillamente. 125 euro per il set ferrata a mio parere anche qua ci sta perché a questo set ferrata non manca davvero nulla non manca nulla anzi il peso ridotto la grandezza ridotta fa sì anche che nello zaino non sia troppo grosso quindi secondo me 125 euro ci stanno senza tanti problemi 60 euro per l'imbrago anche qua secondo me è prezzo giusto perché comunque abbiamo tutte le regolazioni del caso abbiamo un imbrago comunque che quando lo utilizziamo è molto traspirante quando lo si ha addosso non dà fastidio molto confortevole quindi comunque 60 euro è nella fascia di mercato come tanti altri imbraghi quindi in generale diciamo che è un kit ferrata sicuramente non primo prezzo non entry level è un kit ferrata per chi ha già esperienza per chi fa tante ferrate durante l'anno e per chi lo sfrutta pieno vi consiglio da questo dunque di questo kit ferrata assolutamente sì mi sono trovato molto molto bene non vado a ripiangere il mio vecchio kit ferrata di un altro noto marchio e sinceramente io davvero secondo me non ha nulla da invidiare a marchi molto più conosciuti dato ciò ragazzi è una speranza di stato esauramente esotivo anche per questa recensione vi ringrazio per la guardata e noi ci vediamo alla prossima ciao